Sorprese e grandi esclusioni nella puntata di X Factor andata in onda ieri sera. A tornare a casa questa volta sono stati gli effetto Doppler, trio maschile di Enrico Ruggeri. Diverse le discussioni nate nel corso delle esibizioni fra i quattro giudici, polemiche soprattutto nei confronti di Elio, Reo, secondo Ruggeri e la Tatangelo, di distruggere propositamente l'autostima dei cantanti con giudizi troppo severi e gratuiti. Parlo perché un diploma del conservatorio non è che sta dando giudizi mia nonna, a tuonato Elio, questa volta travestito da Marajan. Guest star della serata Anna Oxa, che ha deliziato il pubblico con un brano inedito tratto dal suo nuovo album.